Storia di vittoria, un mese e mezzo di mamma Federica e papà Martino, una famiglia, lei mestrina di nascita, lui di marostica, che oggi può tirare un lungo sospiro di sollievo dopo alcuni mesi di tensione e paura, a riportare nelle loro vite e serenità il lavoro d'equipe dei reparti di cardiochirurgia, ossetricia e pediatria dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, che hanno preso in carico madre neonata. Federica è arrivata in ospedale incinta, una valvola coronarica molto stretta e la gestazione che metteva in difficoltà il cuore. È stata dura soprattutto per questo periodo Covid che ovviamente non vedi familiari, ancora adesso mi viene da piangere per quello che ho vissuto perché è stato terribile. Per non compromettere la piccola si è deciso per il parto cesare e così il 30 dicembre è nata vittoria di 32 settimane. La bimba non ha avuto nessun problema, eravamo presenti al momento del parto perché la signora partoriva è in una situazione non ottimale. Mamma e figlia temporaneamente separate in due diverse terapie intensive. In attesa dell'intervento per il cambio della valvola si decide per le dimissioni, ma i tempi improvvisamente si accorciano drasticamente. La protesi è un'infezione. È arrivato l'esito dell'eco-predimissione che aveva visto che la valvola si era infettata e lì mi è caduto il mondo perché ho detto addio adesso, adesso sapevo che bisognava sostituirla. Un intervento delicato in una paziente con già la sostituzione della orta discendente e reimpianto delle coronarie. Rioperare in questo caso qua è una cosa abbastanza difficile, direi molto complessa. Non ho dovuto anche allargare per mettere una valvola più larga, una protesi più larga. Quindi un lavoro molto lungo, molto delicato e che è andato molto bene. Il tutto in piena seconda ondata Covid, ma oggi finalmente mamma Federica, papà Martino con la loro vittoria possono guardare avanti e sperare per il futuro. Psicologicamente anche per lei non è stata facile, è sempre qua da sola, non poteva vedere la mamma, il fratello e quindi insomma dai, però è passata e adesso guardiamo avanti, abbiamo di che pensare per il futuro.